Oh Rovella, oh Rovellino, esulta su sta minchia Rovellino, dopo il 2-0 come un folle, infatti poi giusto il tempo di entrare in campo, bidonare, 40 secondi, Arkadius Milik e Rovellino non esulta più, come mai? Come mai il Rovellino non esulta più? Speriamo più che altro, poi arrivino quei 20 milioni, 17 quelli che sono, che effettivamente abbiamo bisogno di quei soldi, probabilmente non per riscattare Alcaraz vedendo i 15 secondi che per l'ennesima volta ha giocato, l'unica volta che Purino può fare un pochino di minutaggio e gli sbrancano la testa dopo 5 minuti, dove anche qui, caso strano, oggi ho visto mezze gomitate molto un pochino sul chi va là, puntualmente fischiate di là, giusto appena strusciato, ma ci arriviamo domani, probabilmente ci arriviamo domani per discutere di quella roba lì. E detto questo, finale, posso essere onesto, dopo il gol del 2-0 mai mi sarei immaginato che saremmo andati a fare il gol del 2-1, soprattutto mantenendo il 2-1 così è stato nel senso bene, bene più che altro perché questa cosa, oltre che darti l'accesso alla finale di Coppa Italia, dove ritratto sempre un pochino di più la vera possibilità di poter alzare un titolo perché se i presupposti sono questi qui e ti presenti anche solo come oggi ho seria paura, e vabbè, ci penseremo, ci penseremo a tempo debito tra un mesettino quando ci sarà la partita, però sinceramente sono onesto, mai mi sarei immaginato uno scenario di questo genere, più che altro perché i presupposti per l'inculata massima c'erano tutti, partendo proprio da un'ora prima della partita quando vedi Danilo, Bremer, Alexandro, lì già ti si inizia a stringere, più che altro perché conscio che sì, due gol di vantaggio è un vantaggio importante appunto, però sai, magari prendi un gol quasi subito, poi ne basta uno per rimettere tutto quanto in equilibrio, infatti Trachet è servita su un ottimo piatto d'argento con l'ennesima marcatura meravigliosa di Alexandro dopo dieci minuti, d'altronde la partita è lunga perché anche addirittura lo sforzo di staccare dopo dieci minuti di partita, si spendono inutilmente delle energie fisiche e nervose che potrebbero essere investite in altro, mamma mia è veramente l'idea che questo qui gli mancano due presenze per diventare il giocatore della Juventus straniero con più presenze della storia, è una roba che veramente mi fa caponnare la pelle, se pensi a tutti i fenomeni stranieri che hai avuto, vabbè, cosa ci dobbiamo fare? Questo è purtroppo, questo passa in convento, Rugani evidentemente non convince più ma ormai è anche inutile toccare gli stessi temi perché tanto sei pienamente consapevole di chi gioca quando magari il titolare non c'è, quindi non vale neanche più la pena stupirsi di un Alexandro titolare in una semifinale di ritorno di Coppa Italia, un pochino come l'anno scorso quando c'era Bonucci, stessi denti, infatti poi puntualmente sto giro almeno l'inculata non è arrivata ma i presupposti appunto c'erano tutti ma per fortuna no, per fortuna no e sicuramente non mi posso lamentare di questo anche se poi volendo fare un pochettino i cagacazzi la partita è stata quella che è stata, adesso non prendiamoci in giro purtroppo tutti quanti avremmo visto bene perché con quel gol di Milik sei riuscito ad aggiudicarti la finale e comunque il computo totale dei 180 minuti 3 a 2 e tutto sommato vedendo quella che era stata la partita dell'andata e quella che è stata la partita di oggi ci sta, ecco nel complesso non hai demeritato ma appunto l'unica vera grande speranza è che non approccerai la finale con lo stesso spirito perché altrimenti rischiano di essere uccelli senza zucchero diciamo uccelli senza zucchero senza troppi giri di parole ma nel senso vedremo vedremo perché con calma con calma detto questo mi sa che McKennie si deve lasciare il primo step onestamente perché Shevlaovic magari inizialmente dopo che sotto Capodanno aveva trovato il Nettare sembra un pochino più indietro McKennie da questo punto di vista anche perché Purino d'altronde che cosa gli vuoi dire è uno che le ha giocate tutte facendo quello che facendo correndo dal primo all'ultimo tutto l'anno ma certo ci sta che non ne abbia neanche più è incredibile invece come puntualmente può bagare i continui a vedere Kostic tutta quella gente lì che dici vabbè poi bellissimo che oggi a sinistra c'era un pochino l'area dei Desaparecidos dei Kasper composta da Alexandro, Kostic, Rabiot, Chiesa che Chiesa comunque quando è stato spostato a destra cioè no è cambiato un cazzo ad onore del vero perché non è minimamente entrato nell'azione del gol tempo che è segnato è stato tolto per Alcaraz quindi in generale una partita abbastanza da Desaparecidos di tutta la fascia sinistra che ogni tanto compariva per fare una cazzata giusto per dire ci sono e va bene così un altro aspetto in tutto questo molto positivo è che Locatelli era diffidato e salterà la finale buono sinceramente buono mi fa ben sperare sinceramente questa cosa perché anche oggi il centrocampo è stato quello che è stato ma alla fine l'abbiamo visto anche venerdì ti pasteggiava in testa su Leimana quella gente lì a centrocampo figuriamoci quando magari il livello si alza anche di un pochettino via nulla di particolarmente nuovo e per il resto solita partita c'è veramente 10.000 errori dove l'importante era non prenderlo ma poi puntualmente due li hai presi e UEA probabilmente cercando il tiro riesce a prendere Milik per buttarla dentro perché anche UEA io continuo a dire lo rimando perché ormai questa squadra con questo allenatore è quasi evidente che non abbia più nulla da dare non che non ci tenga perché comunque è stata anche simbolica l'esultanza al gol del 2 a 1 dove tutti quanti sono andati al manicomio all'idea di aver trovato il gol quindi sicuramente non che non ci tengano però probabilmente non c'è più nulla da dare assieme però veramente UEA secondo me lì davvero voleva tirare è andata come andata Milik ha tagliato forse conscio del fatto che i piedi di UEA sono quelli che sono e via perché con tutto il bene del mondo c'è sto ragazzo entrato primo pallone perso secondo pallone perso una volta gli era arrivato un pallone semplice di testa ha perso pure quello non era neanche no sotto pressione no però assistman del gol che ti garantisce la finale del gol che ti garantisce i milioni della finale di Coppa Italia e i milioni soprattutto della Supercoppa quindi c'è anche poco da dire obiettivamente per l'amor di Dio e vedremo domani vedremo domani se sarà Fiorentino o sarà Atalanta secondo me domani l'Atalanta completerà la rimonta posso sbagliarmi assolutamente anzi forse vedendo lo storico degli ultimi anni in campionato forse sarebbe anche meglio affrontare la Fiorentina rispetto che l'Atalanta anche perché poi recentemente sui social network il palmarès di Gasperini è stato perculato quindi ci sono tranquillamente i presupposti affinché quel perculamento possa invecchiare decisamente male ma vabbè dai siamo in finale e Rovellino non esulta più io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve io vi mando un po' di più